ciao ragazzi bentornati sul mio canale questo è un video spacchettamento avon sono arrivati due pacchi adesso vi vado a mostrare il pacco quello più grande che è questo all'interno troviamo questa bellissima borsa vedete è veramente molto grande guardate bellissima non so se posso aprire la busta vediamo se possiamo dirla da questo lato qui togliamo la busta e la vediamo da vicino guardate abbiamo questo dettaglio qui in oro poi le maniglie sono fatte così e poi abbiamo questo qua per mettere la borsa a tracollo vedete è veramente una bellissima borsa spero che riuscite a vederla perché veramente molto grande a me è piaciuto davvero tanto poi all'interno di questo pacco abbiamo i cataloghi nuovi che ho acquistato per le clienti poi andremo a sfogliarlo insieme abbiamo due prodotti piccolini prendiamo un attimo e ve li vado a mostrare abbiamo questo dare lo abbiamo che uno dei nuovi smalti bellissimo anche questo mi è piaciuta anche la confezione che hanno fatto vedete e poi c'è quest'altro apriamolo così vediamo anche questo guardate anche questo è un bel colore e adesso passiamo al secondo pacco aspettate un attimo allora questo è il secondo pacco qui abbiamo un portafoglio maschile altri cataloghi un rossetto vedete una lozione corpo da 150 ml un'altra lozione corpo a cacao abbiamo questo che per il viso anzi chiedo scusa questo è il contorno occhi un fondotinta e poi abbiamo questo qui che è un fondotinta e poi questa matita occhi mi sono arrivati anche dei campioncini in omaggio e vediamo se c'è qualcosa di prodotto no sono tutti i cataloghi ragazzi spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con tante altre novità sempre avon